Delle squadre di cui dirò il nome, voi mi dite il leader nello spogliatoio, in campo, esattamente. Quello che appunto fa... Un nome secco? Un nome secco. Ok. Ve lo chiedo per, Giuseppe Pastore, parti tu, il Napoli. Conte. Fede. Come trascinatore direi Kvara. Stefano. Difficile. Il Napoli... Alla fine io vado su... Vado su Lukaku. Secondo me questo gioco ci aiuterà a confermare che in realtà c'è una squadra che ha l'imbarazzo della scelta di questa tipologia di giocatore e le altre invece fanno un po' fatica a farcene individuare uno. La squadra che ha l'imbarazzo della scelta e la seconda in cui faccio il nome c'è l'Inter. Barella. Barella. Anche per me. Bastoni. La Juve, visto che hai fatto tu la domanda, prova a darla risposta. Ti dico Cambiaso. Io ti dico Gatti. Per me era Bremer, quindi ora dico Cambiaso. Ora vi dico il Milan. Mignan. Anche io ti dico Mignan. Un po' difficile qui, in effetti. Evidenziarlo da fuori. Nessuno. 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 Invece per la Roma? Mancini. Mancini. Metti in difficoltà con questa domanda, perché secondo me anche qui nessuno. Bart, potremmo andare avanti all'infinito, ma sapevamo già dove ci avrebbe portato questo giochino. Cioè a dire che veramente, perché quando tu facevi questo discorso sulla Juve, qualcosa mi frullava dentro la testa e mi chiedevo, dov'è che l'ho già sentito questo tipo di discorso? Marco, dieci minuti fa l'abbiamo detto, uno entra lo spettacolo del Real Madrid, 0-2 all'intervallo, non deve nemmeno alzare la voce. Non deve nemmeno alzare la voce. Ce ne sono otto, nove. D'accordo. Altro è diverso. Oggi quando tu prendi un giocatore e vai a vedere un giocatore, la prima cosa che devi vedere è questa. Cioè al netto delle qualità fisiche, tecniche, tutto è l'attitudine, il comportamento, la leadership, la personalità che mette in campo. Grazie.